Anche quest'anno scolastico 2017-2018 per Nicola Romeo, studente con disabilità di Locri, iscritto al terzo anno presso il liceo artistico Liveti Panetta della cittadina, non è potuto iniziare. Infatti, a tre settimane dal suono della campanella, lui è a casa perché è disabile, pertanto, a differenza degli altri studenti normodotati, rimane escluso dalla scuola nell'indifferenza totale e nessuno sa quando potrà frequentare. Papa Cosimo ha giustamente presentato un nuovo esposto in procura, si tratta del terzo. Gli altri due sono stati presentati nei precedenti anni di scuola, sempre per gli stessi motivi. Le ragioni sono riconducibili alla mancata istituzione della figura specializzata in psicologia, come previsto dall'unità multidisciplinare dell'ASP, fondamentale per l'integrazione scolastica, ma non c'è neppure l'assistente educativo per l'autonomia e la comunicazione, previsto dalla legge 104, che possa affiancare lo studente in ogni attività in quanto studente non autonomo, nella figura qualificata che si possa occupare dell'igiene personale dello studente e, infine, manca il servizio di trasporto scuolabus. Per tali ragioni è stata inviata una PEC al Ministro dell'Istruzione, al Direttore Generale Scolastico della Regione Calabria, al Prefetto di Reggio Calabria, all'Assessore all'Istruzione, all'Ufficio Pari Opportunità della Regione, alla Città Metropolitana, al Liceo Artistico di Locri, al Sindaco della Città, all'Assessore all'Istruzione, all'Ufficio di Neuropsichiatria Infantile Multidisciplinale dell'ASP di Reggio Calabria, di Stretto Locride e al Vescovo della Diocesi, Locri Gerace, per illustrare una situazione già nota nel corso degli anni. Una situazione, infatti, che si protrae da tempo e che va contro i principi costituzionali basati sull'uguaglianza, l'integrazione e il diritto allo studio.